molto bene è stata un'esperienza interessante e soprattutto perché siamo venuti a conoscenza di un prodotto unico che speriamo abbia successo per il futuro diciamo che la sfida è proprio di trovare il target di clienti giusti che possano apprezzare queste storie di artes e che non chiedano i pacchetti tradizionali venduti normalmente dai tour operator quindi c'è tanto altro lavoro da fare